L'obiettivo di questo esercizio è codificare in Java questo algoritmo. L'algoritmo è semplice perché richiede in input all'utente un valore numerico e poi calcola l'area del quadrato che ha come lato questo valore numerico inserito x, calcola l'area del cerchio che ha come raggio x e poi produce in output i risultati. La classe si chiama aree, ricordo tutti perché questo è un errore che ricorre spesso, il nome della classe ha iniziale maiuscola. Poi all'interno della classe ho già inserito, in realtà ho fatto inserire dei clips, l'intestazione del metodo main, cancelliamo questo commento generato in automatico e iniziamo con la dichiarazione delle variabili. C'è un'unica variabile che viene utilizzata in questo programma ed è x. Trattandosi di entità geometriche, il tipo di dato è sicuramente double, per cui vado a dichiarare la variabile x di tipo double. Passo ora alla codifica del primo blocco del diagramma di flusso, questo, output inserisci x. quindi, blocco 1, si utilizza per l'output a console l'istruzione system.out.println, tra le parentesi tonde andiamo a scrivere il messaggio che deve comparire a video all'utente, cioè, tra virgolette, inserisci x. Blocco 2, invece, riguarda l'acquisizione del dato inserito dall'utente tramite tastiera. Utilizziamo l'input da console, ma per fare questo dobbiamo prima andare a creare una istanza della classe scanner. Quindi, mi posiziono in alto, non è importante andare in alto, ma lo faccio per collocare in modo ordinato le varie istruzioni. Per utilizzare, quindi, le funzionalità che mette a disposizione questa classe, bisogna scrivere scanner, poi, un nome di una variabile la scegliamo noi, io utilizzerò la variabile console, uguale new scanner, e tra parentesi tonde, system.in. Attenzione alle maiuscole, scanner e system sono classi. Ho una sottolineatura sotto scanner, perché mi segnala un errore, l'errore è che manca l'importazione della classe, quindi, mi posiziono sull'errore, con il mouse mi compare questo box, dal quale scelgo la soluzione per risolvere l'errore, che è la prima, import scanner da il package java.util. A questo punto posso scrivere la mia istruzione di input. Allora, in che cosa consiste questa istruzione? Va a prendere il dato a recuperare ciò che l'utente ha inserito da tastiera, lo converte nel tipo corretto e poi lo assegna alla variabile x, indicata qui tra parentesi nel blocco 2. Quindi, iniziamo a scrivere che è a x, andiamo ad assegnare che cosa? Allora, abbiamo definito la variabile console proprio per questo scopo. Quindi, console, poi si mette un punto e si può vedere che compaiono tutta una serie di metodi che si possono utilizzare. A noi interessa il metodo che legge il dato e lo converte in double, quindi sceglieremo next double, il primo che viene proposto. E poi, punte virgola. Quindi, l'acquisizione dell'input tramite la console e la tastiera avviene in due passi. Il primo passo è quello che comunica all'utente che cosa deve fare con l'istruzione system.out.println S maiuscola. Il secondo passo è quello che invece va a recuperare il dato inserito da tastiera e lo converte nel tipo desiderato e lo assegna alla variabile next double perché x l'abbiamo dichiarata di tipo double. Nel blocco 3 troviamo un'istruzione di assegnazione. La scriviamo esattamente così come la vediamo riportata nel riquadro. Area quadrato al posto della freccia si scrive l'uguale perché è con l'uguale che si può rappresentare un'istruzione di assegnazione e poi scriveremo x per x cioè lato, praticamente la x rappresenta lato per x. L'operatore di moltiplicazione si rappresenta con un asterisco e il risultato di questa espressione x per x viene assegnato alla variabile area quadrato però c'è un problema area quadrato risulta non raggiungibile non può essere risolta come una variabile perché abbiamo dimenticato di dichiararla quindi da qui si capisce che se non dichiariamo la variabile viene segnalato un errore allora andiamo qui dove abbiamo dichiarato la variabile x basta dichiarare anche la variabile double area quadrato ecco l'errore sparisce attenzione perché se sbaglio il tipo ottengo un errore perché essendo x double il prodotto di due double mi dà un double quindi non posso assegnarlo ad una variabile int a meno che io non vada a fare un'operazione che si chiama cast che consiste nell'andare a mettere davanti alla espressione tra parentesi tonde il tipo in cui voglio fare la conversione in questo caso viene accettata calcola x per x poi lo converte in intero troncando la parte dopo la virgola comunque non è questo che ci interessa in questo momento continuiamo con i double vorrei anche precisare che non è necessario dichiarare tutte queste variabili su righe diverse ma possiamo dichiararle sulla stessa riga quando sono dello stesso tipo separandole con una virgola abbiamo anche un'altra variabile che è area cerchio che possiamo dichiarare quindi posso anche separare le variabili con una virgola e dichiararle tutte sulla stessa riga questo lo scegliete voi in base alle vostre esigenze ok salviamo ho corretto avevo scritto area crecio qualcosa del genere comunque il nome giusto è area cerchio x virgola area quadrato virgola area cerchio tutte e tre le variabili sono di tipo double adesso andiamo a codificare il blocco 4 quindi dobbiamo assegnare alla variabile area cerchio questa espressione che fa uso del pi greco allora possiamo approssimare pi greco scrivendo 3.14 in questo modo x per x fratto 4 per 3.14 il che non è sbagliato attenzione anche un po' allo stile di scrittura del codice vedete che ho lasciato uno spazio a sinistra a destra di ciascun operatore al posto di utilizzare un'approssimazione del valore di pi greco possiamo impiegare una costante già presente tra le varie librerie di classi java che è la costante pi che si trova all'interno della classe mat quindi al posto di 3.14 posso scrivere mat con la m maiuscola perché è una classe punto poi pi in maiuscolo che rappresenta il valore con un'approssimazione migliore della costante pi greco notate che pi è scritto in maiuscolo perché per convenzione in java le costanti si scrivono in maiuscolo bene codifichiamo il blocco 5 trattandosi di un'istruzione di output ci si comporta esattamente come abbiamo visto per il blocco 1 quindi usiamo l'istruzione system.out.println solo che al posto di avere tra le parentesi tonde inserisci x scriveremo l'area del quadrato attenzione però se io vado a scrivere area quadrato in questo modo non ottengo il valore dell'area ma proprio la stringa quadrato vogliamo fare una prova vado ad eseguire questo codice parziale andiamo a visualizzare la console inserisci x inserisco un valore x a caso 10 per esempio poi area quadrato invece di ottenere il risultato dell'area che è 100 ottengo la stringa area quadrato quindi per poter andare a produrre in output l'area del quadrato il valore dell'area devo togliere queste virgolette proviamo ad eseguire adesso inserisco sempre 10 e adesso ottengo come risultato 100 terminiamo con il blocco 6 che è del tutto analogo al posto dell'area del quadrato produciamo in output l'area del cerchio ovviamente vado a eseguire inserisco mettiamo 5 tanto per cambiare un po' e questo è il risultato che volevamo ottenere ora vi mostro un'altra modalità per effettuare l'input output utilizzando le finestre di dialogo allora intanto il blocco 1 e il blocco 2 vengono eseguiti con un'unica istruzione quindi blocco 1 più blocco 2 questa istruzione ve la scrivo e poi ve la spiego perché è un po' lunga quindi vado a scrivere x uguale double punto parse double aperta tonda j option pane punto show input dialog e tra le parentesi inserisci x optium anche qui devo importare la classe j option pane quindi mi posiziono sopra e clicco su import j option pane cancello però scanner perché non serve più quindi che cosa fa questa istruzione fa comparire una finestra di dialogo dove l'utente può inserire l'input richiesto e poi inviarlo possiamo anche vedere il risultato sì scusate devo togliere questa prima perché non serve più questa scanner quindi eseguo ed ecco che invece della console si apre questa finestra dove posso inserire il valore di x e poi cliccare su ok per inviarlo ora il resto rimane uguale il blocco 3 identico al precedente caso anche il blocco 4 il blocco 5 e il blocco 6 sono invece devono essere modificati per utilizzare le finestre di dialogo utilizzeremo questa istruzione j option è sempre un metodo della classe j option pane pane punto show message dialog e poi tra le parentesi tonde dobbiamo mettere due argomenti il primo è null il secondo e la variabile che vogliamo di cui vogliamo visualizzare il valore quindi la stessa cosa la facciamo anche per l'area del cerchio ogni volta giustamente mi viene chiesto come mai c'è questo null null c'è perché siccome non abbiamo un programma che utilizza della grafica in particolare per entrare nel dettaglio che non utilizza il framework swing e quindi non ha una finestra principale dell'applicazione e dobbiamo mettere null se avessimo questa finestra principale potremmo specificare come si deve posizionare questa finestra di dialogo rispetto alla finestra principale fatta di eseguire inserisci x scusate posso salvare ok inserisci x 10 e qua abbiamo il risultato dell'area del quadrato e il risultato dell'area del cerchio come potete vedere capire non è molto significativo l'output prodotto in questo modo quindi utilizziamo un operatore che si chiama operatore di concatenazione di stringhe che ci permette di produrre in output qualcosa di un pochino più chiaro se voglio accompagnare questo valore dell'area quadrato con una frase per esempio area quadrato posso dopo la virgola mettere le virgolette scrivere la frase che voglio area quadrato per esempio uguale lascio uno spazio e poi chiudo le virgolette ecco però per separare questa frase dal variabile che contiene il valore dell'area del quadrato utilizzo un più che non è un operatore di addizione ma in questo caso poiché viene applicato a una stringa e ad una variabile è un operatore di concatenazione di stringhe prende la prima stringa converte il valore dell'area quadrato in un'altra stringa e poi le mette insieme facciamo la stessa cosa anche per l'area del cerchio area cerchio uguale poi chiudiamo le virgolette più area cerchio adesso vediamo il risultato queste modifiche inserisco sempre raggio e lato vedete il risultato accompagnato da una frase esplicativa nella descrizione del video trovate un link al codice del video